Bene, siamo nella terza parte, mi dice che mancano 18 minuti e la macchina mi dice che sta facendo già la centrifuga intermedia, al risciacquo, la vorrei fermare, ma lascio fare, guardate, anche se sta sbilanciando così, voglio lasciarla fare, voglio capire quando si ferma, ok, dopo tutti i giri in sensore, mi stai dicendo che non riesci a srotolarla? No, risciacquo, non mi ha fatto nemmeno la centrifuga, ma dimmi te, doveva farmi la centrifuga finale non me l'ha nemmeno fatta, cioè la centrifuga intermedia, e siamo già a 17 minuti, cioè questo programma dura veramente poco, vediamo che livello d'acqua arriva, tanto conoscendola ne metterà poca, mi sembra di vedere l'acqua? Ah, sì, mi sembra sì, non so se voi la vedete, ma mi sembra che comunque non sia un livello niente male, anche se è comunque un programma orribile, infatti avevo ragione, non è messo più acqua del solito, bene, 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 anche se non riesce comunque a lambire la gomma dell'oblò, quindi come potete vedere è veramente un livello bassissimo, ma Mancano 15 minuti e credo proprio che a breve deve fare la centrifuga intermedia Ma se fa così, come ha fatto nella prima centrifuga, non credo che farà centrifuga in questo programma Sperando che possa fare il bilanciamento del carico nella centrifuga finale, se riesca a farlo con il tempo che ha Perché sennò farò un video in più dove farò la centrifuga proprio per il lavaggio lana Aggiungerò una centrifuga finale Tanto se gli faccio fare due scatti in più alla manopola, arriviamo già alla centrifuga Perfetto, scarico E non ha fatto nemmeno un giro Allora ha fatto, credo, un giro Se tutto va bene Centrifuga intermedia, risciacca Perfetto, bilanciamento del carico Come al solito ha fatto schifo Perché comunque essendo una coperta Immaginavo che avrebbe sbilanciato Da Ah, pensavo partisse così Sì, perché l'ho vista troppo in bilanciamento Quindi ho detto, mo parte Eccola Eccola Bella sbilanciata Fermati Sì, ciao Adesso sbatte Volete vedere? Un sciacquo ammorbidente Ammorbidente Ah, questi sì, che sono i lavaggi che piacciono a me, guardate L'ultima parte Credo proprio che la farò intera Quindi farò un video da 20 minuti Visto che due primi li ho fatti da 10 Questo lo faccio da 20 Aggiungere un'altra acqua Almeno nell'ammorbidente spero faccia un livello alto Lo spero almeno nell'ammorbidente piuttosto No, eh? Nemmeno un livello alto nell'ammorbidente Questo programma mi dispiace ma lo boccio Non mi piace proprio Ah, altro carico dell'acqua Vediamo a che livello vuole arrivare Mancano 9 minuti E il livello dell'acqua Come al solito è bassissimo Almeno nel lavaggio lana Speravo che facesse un livello alto Anche perché nel cotone lo fa Nell'eco lo fa Nel sintetico lo fa in tutti Nella vagiolana proprio quella in cui serve di più No Questo programma È stato studiato veramente malissimo Quindi fra un po' credo proprio Che deve partire con la centrifuga finale Per lo meno lo spero Che riesca a farla più che altro Che riesco 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 a farla più che altro Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' meglio farlo da 10. Quindi ci vediamo, credo, proprio nella parte del bilanciamento del carico. Ci vediamo nella prossima parte. Ciao.